Biff, due Carbineri incontro il Hermena 1, il Hermena che su capire ci hanno, guardate ce l'avete il documento, dice questo qui no me lo sono dimenticato a casa, e la cintura non ce l'avevano, dice no la cintura non l'ho io, e l'assicurazione come mai non è esposta, insomma questo qui aveva quasi 1000 euro di verbale, minimo, su Carbineri che sono tibicato quello serio, ci sta guardando, stamattina mi hai trovato proprio di buona alena, quindi di buon umore, dice facciamo così, io ti faccio un quiz, un mini quiz, ma nel salammu dice no, ti capisci una domanda, un quiz, tu se mi rispondi buono è un verbale, ma non ti ho fatto buono stamattina, perché se non ti hai buona mamma, non ti voglio dare questa chance, e ditemi, e ti capisci una domanda, ti dico per esempio una cosa, che aveva uno sterzo e quattro roti, chi è? facilissima, è facile, è facile, la macchina, la macchina, la macchina, no, è sbagliato, perché c'è sto Mercedes, c'è la Fiat, c'è la morte, c'è, è sbagliato, mi dispiace, no, ti capisci, per favore, c'è no, ti dà cazzo nato, c'è almeno un altro, c'è la macchina, 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 l'ามbobla, c'è la macchina, c'è questa Londra, c'è la piasta, no, no, è sbagliato, la verità, la cosa barbale, shekl Dust, shekl Dust, shekl Sabdo, herもう, madonna, c'è la mamamena, ci sarà po' la mia mamma, ma che c'è la mamma, dove nasce la mamma, ch Kelwid, shekl Johnson, shekl slubb, shekl Youtube, shekl Duviti, sheklok, shekl Bai, shekl Dunne, shekl� Grazie a tutti.